Ciao a tutti e bentornati, oppure benvenuti sul mio canale. Attivate i sottotitoli! Oggi facciamo un altro esercizio di conversazione. Ci concentriamo su un dialogo estremamente facile, molto semplice, con delle frasi che spesso si danno per scontate, ma che in realtà sono fondamentali da studiare o da ripassare. Leggiamo insieme il dialogo. Di dove sei? Sono di Roma e tu di dove sei? Io sono di Torino. Piacere di conoscerti. Ora proviamo a ripetere queste frasi insieme. Comincio io. Ciao, buongiorno! Come ti chiami? Mi chiamo Lucrezia. Sto bene, grazie. E tu come stai? Di dove sei? Io sono di Roma. Sto bene, grazie. Leggiamo il dialogo un'altra volta, ma questa volta inizi tu. Ciao, buongiorno a te! Mi chiamo Lucrezia. E tu come ti chiami? Come stai? Anche io sto bene, grazie. Anche io sto bene, grazie. Sono di Roma. E tu di dove sei? Piacere di conoscerti. Spero che questo esercizio vi sia piaciuto. Thank you so much for watching this video. Before you go, I would like to tell you about an amazing opportunity to jumpstart your Italian learning. You can join one of the Absolute Beginner Life courses offered at Giulia Baitreccani, the platform to learn to speak Italian and meet with other very passionate students. All courses are in Italian and very interactive, so that you can immerse yourself in the language and engage in small talk from the very beginning. If this sounds like something you might be interested in, make sure to check the description box below this video for all the info you need. Grazie mille per aver guardato questo video, a presto! Ciao!